Ecco come Beyoncé potrebbe fare altri milioni senza muovere un dito. Ovviamente non ne ha bisogno, però vabbè, ipotizziamo. Primo step, creare la Beyoncé Music School su Lama. La cantante potrebbe insegnare attraverso dei videocorsi, ad esempio come costruire una carriera di successo, alcune tecniche vocali avanzate, e si potrebbero anche includere lezioni con ospiti speciali come coreografi, produttori musicali e direttori artistici di fama mondiale. Magari non Diddy, vabbè. Questo prodotto potrebbe tranquillamente essere venduto tra i 1000 dollari, 3000 dollari. Step 2, Beyoncé potrebbe lanciare magari dei seminari esclusivi, dei mastermind esclusivi per musicisti, emergenti e professionisti del settore, e i partecipanti avranno la possibilità in questo caso di svolgere sessioni di private, di coaching, magari con il suo team. Per un percorso esclusivo come questo la gente pagherebbe oro. Infatti potrebbe magari prezzare questa offerta intorno ai 10.000, 20.000 dollari l'anno. Dipende, ovviamente. Ah, Birichini, prima che iniziata di rivoluzione... Eh, le Beyoncé, c'ha già dei corsi, Beyoncé fa già questi cori... Nooo, è bravi. Sto facendo degli esempi per fare pubblicità a Ulama, sveglia. Comunque, sappi che per avviare un business di corso e consulenza di successo, non devi essere necessariamente Beyoncé. Quindi se ti interessa prendere le informazioni già presenti all'interno della tua mente e trasformarle in un business di corso e consulenza, ho una sfida di 30 giorni che è letteralmente gratis, dove hai sia il software per creare i tuoi corsi, la tua community live webinar meeting in un unico posto, sia tutte le informazioni necessarie per capire come creare un business di infoprodotti. Se vuoi avere accesso a tutto questo, scrivimi sfida nei commenti e ti invierò il link per accedere con un singolo euro a oltre 3.000 euro di materiali gratis. Scrivimi sfida nei commenti e ti invierò la sfida all'interno dei tuoi DM.